Ciao ragazzi, benvenuti a questo video Oggi vi farò vedere Come prendere la macchina Un attimo Ok Vabbè Come avere a capo il fattore Vediamo Andiamo nel desktop Togliamo questo Questo, questo, questo E basta Dovete andare Su google Dovete schiacciarlo Eccoci qua Prima di tutto Download questo L'ho già fatto Poi dovete metterlo sul desktop Vedete Qua, vabbè Dovete creare Una cartella Fornite Punto Dev Vabbè Io ce l'ho già Beh, ora la cancelliamo Eccola qua Poi ci mettete Aspettate raga Vabbè Faccio anche io con voi Scaricate Scaricate Aspettate che finisce Che cacchio stiamo facendo Un attimo Stop Dopo che avrete aperto il coso Dovete fare così Vedete? Dovete solo questo Poi, vabbè Poi dovreste mettere una cartella Poi lo aprite No raga Fate più veloce Farlo qua Ecco, vedete Scegliete un nome Guardate Se faccio tipo così Va lo stesso Nome a caso Tanto Non cambia niente Entrate Intanto Che aspetta Apriamo questa Perché non cambia così Vabbè Dovete Aspettare Mi raccomando Lasciate like Se volete altri tutorial Aspettiamo Che entriamo Dopo che siete entrati Dovete aspettare Il server Non mi raccomando Il vostro No 100.000 Lovebugs Armageddon Test Test Questo 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 Il vostro Buono Lasciate like Se vi Stato Utile Questo Tutorial E noi Ci vediamo Nel prossimo Video Bella